Siamo qui con Riccardo e Nicola dell'Associazione Montagna di Suono. Che cosa fa la vostra associazione? Noi promuoviamo la musica o comunque l'arte in tutte le sue forme nella nostra zona, cioè dall'Appennino, diciamo, bolognese a Casa Lecchio di Reno, alla città. Quindi lo facciamo organizzando eventi, ora principalmente ci occupiamo di quello. Poi facciamo anche corsi pomeridiani, quindi formazione, eventi musicali di vario tipo e altre cose correlate, principalmente l'organizzazione di eventi per adesso. E quando avete cominciato come vi è venuto in mente di fare questa cosa? Abbiamo cominciato verso settembre dell'anno scorso, soprattutto perché molti di noi hanno la passione di generi musicali diversi, reggae, drum and bass, allora abbiamo deciso di metterci insieme e provare insomma ad unire le forze per fare qualcosa sul territorio, cercare contatti con altre associazioni, con posti dove poter suonare anche con i comuni. Ora poi siamo comunque ancora alle prime armi e dovremo un po' migliorare comunque nell'attività, nell'organizzazione. Cosa ne pensate di questo evento del Bologround e di questa associazione? Beh il Bologround è sicuramente una bellissima idea perché finalmente vuole diciamo ufficialmente riunire tutte le forze disponibili nella musica underground bolognese, per cui sicuramente è un'idea che va supportata. Speriamo che da questa riunione, da questa unione possa nascere qualcosa di pratico per i giovani a Bologna. Voi qual è il contributo che potete dare voi al Bologround? Eh chissà, adesso forse partecipare come associazione, visto che da quel che ho capito oggi dovrebbe essere una riunione più a livello istituzionale, quindi anche capire come potrà funzionare, come trovare gli spazi tutti insieme, poi per rilanciare la musica in generale, la musica underground e di giovani gruppi, gruppi bolognesi, quindi secondo me è positivo proprio anche l'incontro fra più associazioni e più gruppi per vedere cosa poter fare. Ma anche solo, secondo me, lo scambio delle conoscenze reciproche, no? Nel senso che è un ambito dove non è che c'è una scuola o un corso di essere un gruppo rock piuttosto che fare dischi, piuttosto che organizzare eventi di musica elettronica, no? Quindi appunto più passano le informazioni, più si scambiano le esperienze e più si può essere in grado di affrontare questo mondo, insomma, relazionarsi con i comuni, tutto. Va bene, grazie mille.